Il cielo spoglie. Dove si via? Siete Luca. No, è Lisa. Guarda, guarda come si fa. Tagliamo. La potete portare fino al porto. Adesso viene fuori una? Pochina. Una pochina. Un salame. E qua mettiamo un altro cielo e lo facciamo scalare su un altro cielo. Guarda un pochino. Guarda qua. Guarda qua, Giorgia. Guarda che sta uscendo. Mega strong. Adesso fanno le bagnotte e dopo in forno.